Ciao a tutti ragazzi, in questo vlog vi citerò due temi molto importanti, il doping e l'alimentazione. Questi due argomenti li abbiamo discussi molto all'università e sinceramente mi ha aperto molto la mente perché quello che sapevo prima era abbastanza ma non completo come adesso. Quindi con voi volevo discutere di questi due argomenti nei prossimi video. Anche vi volevo parlare dei miei dieci anni nel ciclismo. Qui sotto nei commenti mi potete scrivere quali di questi tre argomenti volete che io vi parli nei prossimi video. E come vi ho detto sono il doping, l'alimentazione e i miei dieci anni nel ciclismo. Ho preso questi due argomenti, soprattutto il doping e l'alimentazione all'università. Spero che non vi sconvolgano la vita perché sono cose scientificamente provate, soprattutto quando prego dell'alimentazione perché non citerò MyPersonalTrainer oppure Albanesi.com ma citerò un motore di ricerca scientifico che si chiama PubMed. Ci hanno parlato molto di questo motore di ricerca e se vogliamo sapere la verità su alcuni argomenti, possiamo digitare su questo motore di ricerca la parola chiave che noi stiamo cercando, per esempio alimentazione, possiamo scrivere alimentazione ideale per lo sportivo ed escono tutte le alimentazioni ideali. Su questo motore di ricerca scrivono tutti gli scienziati che hanno ricercato e studiato e quindi hanno istituito la dottrina scientifica, quindi sono cose vere, come ho detto prima non è Albanesi.com e MyPersonalTrainer che dicono abbastanza verità ma non sono scientificamente provate. Anche oggi mi sono fatto 80 km, sono andato in pianura, ad andare c'era molto vento e quindi ho preferito ritornare indietro perché stavo andando al paese di Susa, ho fatto tutta la valle di Susa più o meno, quindi saranno un'ottantina di chilometri. Vi metterò lo screenshot sul video del mio percorso. Ragazzi scrivetemi nei commenti se vi piace questa modalità di video con il selfie stick, sono abbastanza ridicolo ma mi piace fare video, mi piace parlare con voi soprattutto e questo è un modo di parlare faccia a faccia con voi. Ricordatevi anche di scrivermi nei commenti di quale argomento volete parlare. Come sempre se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciarmi un like e a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. E al prossimo video, ciao ciao!